Teatro Comunale ad Atri Una pièce molto bella, Decalogo, com'è nata? Il Decalogo nasce da un'idea di Stefano Alleva, il regista, il quale si è ispirato al Decalogo di Kisloski, straordinaria opera di dieci film, di dieci mediometraggi, perché sono tutti film che durano 55 minuti più o meno. E' stato presentato al Festival dei Due Mondi di Spoleto due anni fa, i primi cinque comandamenti. E noi adesso stiamo portando in giro il primo, il terzo e il quinto, in questa nuova riedizione. E qui ad Atri portiamo il primo, perché insomma si inizia dal primo. Questi comandamenti che vengono un po' rivisitati in un'altra veste, diciamo. Diciamo che il comandamento, noi non diamo nessun messaggio religioso, i comandamenti alla fine sono regole di vita. Ci siamo ispirati a fatti realmente accaduti e da questi fatti vengono sceneggiati e quindi il comandamento è un pretesto. In questo caso io sono il Signore tuo Dio, non avrai il tuo Dio al di fuori di me e in questo caso il Dio di cui parliamo è la scienza. Quindi è una chiave veramente molto particolare. Non sarà solo in questo spettacolo? No, con me ci saranno Eva Spadolo, Carlo Maria Rossi e Giulia Rebecca Urso. Siamo in quattro in scena e siamo molto contenti di essere qui ad Atri. Avete un teatro che è meraviglioso, è una piccola, quando dicevo una bomboniera, ecco questa è una vera bomboniera e noi siamo felicissimi e orgogliosi di essere qui. Teatro ma anche fiction, televisione, abbiamo visto di recente a Notti sul Ghiaccio il programma di Rai 1 con Meli Carlucci. Sì, sono completamente pazzo. Mi piace, mi piace cambiare il mestiere dell'attore. È un mestiere meraviglioso perché si possono giocare tantissimi ruoli e in questo caso gioco un ruolo drammatico. Nello show di Milli Carlucci ho giocato un ruolo divertente, cadendo, rialzandomi, giocando con il pubblico, con la mia partner e con tutti gli altri. Beneficio hanno fatto tantissimi ruoli, quindi ecco però senza togliere nulla alle altre cose il teatro ha tutta un'altra atmosfera perché non c'è filtro. La televisione è un filtro, il cinema è un filtro, gli show televisivi hanno il filtro del mezzo elettronico. Qui c'è soltanto materiale umano. Questo poi è uno spettacolo che sta girando molto. Siamo stati a Milano, siamo partiti da Spoleto, siamo stati a Milano, siamo stati a Torino, adesso siamo venuti qui ad Atri, torneremo di nuovo su al nord, saremo a Monza. Abbiamo già altre date che si stanno concretizzando. È comunque un'idea molto importante perché il nostro obiettivo è cercare di mettere in scena tutti i dieci comandamenti e fare una compagnia stabile, itinerante, che gli attori riescono a fare tutti quanti i comandamenti. Parlando invece dei prossimi progetti? I prossimi progetti riguardano il maestro Stefano Alleva comunque, speriamo di riuscire a realizzare un meraviglioso film per il cinema. Ho un'altra pièce teatrale che mi è stata proposta, una di quali diritti le abbiamo comprati io e altri due miei amici, speriamo di portare in scena anche quello, insomma tante cose. Pino Strabbioli, direttore artistico della stagione teatrale qui al Comunale di Atri, prosegue a gonfie vele con grandi nomi del teatro. Beh sì, sta andando molto bene, sono molto contento di questa esperienza. Siamo sotto debutto, c'è Giorgio Borghetti, molto amatissimo della nostra televisione, Reduce da Rai 1, No, Notti sul ghiaccio. In uno spettacolo importante, impegnativo, a firma di un regista che io amo moltissimo, Stefano Alleva, Decalogo, Il primo comandamento. Per cui quest'anno abbiamo cercato davvero di raccontare il teatro in ogni sua sfaccettatura, da Shakespeare con Giorgio Albertazzi, dalla commedia che ho fatto io all'inizio, alla commedia di Longoni con Cesare Bocci e adesso appunto Giorgio Borghetti, Milena Vukotic e poi chiuderemo la stagione il 24 con una voce meravigliosa che è quella di Lina Sassi, uno spettacolo in omaggio ad Edoardo De Filippo, scomparso 30 anni fa. Ne abbiamo parlato anche precedentemente, da registrare anche il successo della sua trasmissione dedicata proprio ai grandi nomi del teatro, colpo di scena sul Rai 3. C'è già un'idea per la prossima stagione teatrale? Sì, sto per registrare altre puntate, faremo altre otto puntate che andranno in onda sempre, no quest'anno andranno in onda il sabato, sera alle 20.15 nel posizionamento che adesso è di Fabio Fazio, per cui in quella faccia oraria quando Fabio finirà il suo Che Tempo che fa e poi una puntata dedicata proprio al teatro, una puntata della grande storia che andrà in onda in prima serata sull'Avanspettacolo, la rivista Elvarietà.